44 no no vado a misura una lotta contro pietro ok 8 contro pietro 8 contro 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 18 18 22 21 22 22 22 24 ha detto che le sedie sono di quattro sedie volanti e tre tavoli appuzzuttati ma nessuno ti ha chiamata via no terzo piano abbiamo tutte le impostazioni da game che basta bagno cucina è perché non c'era come la mia nella piazza dove mi sono in corso storto raga inizia a sentire i gusti o di nuovi gusti i gusti essendo stupide raga 15 per cento sono prodotti della bellezza comunque raga non sta sponsorizzando amazon che foto si ce l'ho scritto però ho scritto le notte scritte 18 scritto qui notte arriva 110 10 parola parola per parola per parola per che è che giuseppe buriamo parola mannò benedì no ragazzi ciao con le offerte di amazon scenderemo i due secondi di sconto con il sito porno con scritto cfx ghost xxx volerete insieme agli sponsorizzati stai scenderemo i due secondi di sconto io ciao con le offerte di amore ciao con le offerte di amore scenderemo i due secondi di amore ciao perciò li dà le nuppi perciò li dà le nuppi perciò li stiamo ingoiati che dà lì sei già tu e te che la mamma sei che la serie sei un bianco invece te sei un trucco se non avrei capito domenica tene problem mia mamma non c'è di già nessuno perchè se non s'fottene gio 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 che gay ma va se tu e fu c'è sì ma mamma tua domenica mi è siccato su un transformer domenica tene problem mia mamma non c'è di già nessuno perchè se non s'fottene gio 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 che gay ma va se tu e fu c'è sì ma mamma tua domenica mi è siccato su un transformer la prima cosa che l'hanno regalato è basso ora l'hai trenta cantina Diciamcelo muoremmo io Lo uscirò solo da quando è nato Da quando ci ha fatto un battesimo Ah, uero? Uero? E come so? Come so, ne? Se non lo vuole sto comunque io Ah, ok 4, 2, 3 Vamoci a te Cazzo di tua mamma Guarda qua Ehi Questa è l'ultimo round Ehi, aspetta, no, non torniamo a parlare Questa è l'ultimo round Se perdiamo, ti vengo a cercare Ok Se vinciamo Non devo partire No, se vinciamo io dovresti dare un premio Eh, ho vissi Ho vissi una volta Vittoria Ok, adesso che cosa succederà? Vieni Metti due cose Ok Non crederà niente della teglia Allora Oppure potevi diventare orfano Con questi qua Con questi qua Ho fottuto Ah, bella ragazzi E' bella il cucciacolo E' il mignottone Ovidio o mi non devo tu Ah Quindi parli Tu fa oci Allora Ciao ragazzi Eh Sto facendo gay Eh Buongiorno a tutti Io sono Marberato Cioè io sono Giuseppe Chiamata Madonna e Prince Della rinazione Mero che abbono Mi chiamo Prince E questo video Sarà molto speciale Soprattutto con Pietro Che ho voluto tuttati da due meningatori Tu lo stai ziii Ah Ah Mi devo allenare Non devi scurare Alexa, hai riprodurato Tu ci facciata nera No 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 Oh no Oh no No Peppe Eh Peppe Che ci vuoi Io questa qua la deneumutata Infatti l'ho detto Cioè l'ho detto perché la deneumutata Mi ha sentito quella la della camera da letto Ahahah Ahahah Il peccato è che mio padre sia dormendo lì Ahahah Ahahah Faccia Ahahah Ahahah Ne ho fuggito Abba Abba io ne tengo 12 E invece non la tengo proprio la scheda vita Ahahah Ahahah Vengare meglio Abba però la scheda è in degrada dell'MCI Ma guarda ma guarda Gruà Ma guarda Ma guarda Ahahah E kokore la scheda Mi ha detto a喝 No Non so La she della madre amici ahi è bellà Ah è invece delle la scheda madre gigabyte che vuol dire chiede una scheda video gigabyte una scheda video deve essere messo eh la scheda madre eh ma guarda l'ultima che uscita tu dimenticare là ho la prima che è uscita eh pezzio eh perciò stiamo alla pari ma vuoi dire oh è la prima che è uscita quindi sarà molto rara e anche è molto strato eh 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 vabbè 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 bella a tutti ragazzi sono qui siamo qui con Giovanni c'è 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 ciao minchioli ciao raga ok vedri appena morto io bocchè una cosa che sa di rosa che nella mutanda di rosa si sorviglia e oggi e oggi più di ieri sborre carabinieri un'altra cosa è dopo Вотısı avuto un posto migliori e oggi più di ieri oggi più di ieri avere Cornel Ettore poi un posto e sì 3 3 4 5 6 5 7 7 8 8 8 9 10 11 11 13 un'altra domina di salvole che si è ruolo morto e ce ne dirige l'agolo appena messo in offerta il pesce di salmone, il capitone, il guadagnone, erbo e ne vengono tutte le specie, tutte le specie e si non si sa nascendo la sua parte, non si, se ne vengono l'agolo, se ne vengono e non si, se ne vengono, si e non si, se sento vabbè vabbè dove mi sono maldi? sono un vento ooo non mi è che piance mamma mia i suoi cilio della nasa dove c'è? non mi è che piance dove c'è? non mi è che piance dove c'è il maniero quando c'è? quando c'è? quando c'è? quando c'è? quando c'è? l'ho tecnolo il metto il metto e io bene gli altri c'è la l'ho 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 quando vuole avere un pochino Giappe per San Pondini 20 euro offerta 10 euro ha aperto tutti i bambini di pattone dall'opoidico e ci si è già il seno aperto è un po' ci si ci ho visto 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 bravo 20 giorni 20 in India Marocchini e Mamedo fuma fuma in grasse bruciato per 24 anni Mamedo non arriverà ai piedi ma non ha scelto torta con bravo ma io non mi disturba adesso mangiando a me ma disturba adesso mangiando raga mi si esplose il computer benissimo ahhh che bello fanno accendere ok siamo qui a posto Giuseppe guarda i video e vedi un mondo orchi però domani mini on it mini hitler quando ma proprio frate ma frate ma nonno mi è venuto a singhio stanno accendo i fotografi dove c'è è appena finita di lavarsi mamoo ho bisogno di asciugami ora mi faccio ora mi faccio una foto ora mi faccio una foto ragazzi eccoci qua con il culo pulito che ti faccio a te lo cazzo no marrone hop che vedrà chi è ok ma oh guardi e domani che lo dico alla prof professoressa dragon dragon mi sta pulizzando e chi è dragon e chi è dragon signor che la tua linea hashtag marrabalini marrucchini no signor a fianco signor a fianco ma io non ho capito se non si capisce da me lo posso non mi non ho capito ma io veramente però io sai che non è un scemo ma io non ho capito io non ho capito ma io non ho capito ma perché andrei sofferi? una mazza ma che è che frossa? ma la mia madre è una mazza mi sembra una faccia cazzo te lo posso rimanere via 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 richardina in palesi sa? vado i muscoli cuaito gli ricchi e andrea papo stato rapito a.pe anti che sembra lo rombino desse e signoressi signore x gli e se c'è cioo prendere i sette gli anni c'è se veda niente mannaccia la miseria dove ci sono forno ma ci sono forno ma ci sono forno poter aiutmato pace mannaccia cosa che c'è successo si fesse stasciare 34 messaggi per te ciao oggi ho fatto i compiti ho fatto matematica ho fatto una storia ho fatto ho fatto esercizio numero uno due tre cinque sei sette ho fatto il tuo libro mannaccia la miseria ho fatto il tuo libro ma capito faccio completato il libro ma non puoi scrivere sulla mente che ho completato il libro no è troppo difficile tutti con insieme mamma faccio io quando 73 di vok lavora ma colico guardi vabbè è vabbè ho detto apprendimenti non pietro 100€ sul f***** però vedi? Pietro, devi andare a chitarre eh, però no non lascio a s***** ma non lascio a s***** ma non lascio a s***** di piccolo non veramente bene però oggi sei a s***** cioè non... non.... e vedi un bruno ma non ci puoi fare e pietro che te ne ha capito si, le sc***** ma non è vero E tengo a capire, ho capito che io faccio le arti marginele assolute, ma perciò vedrai così, perchè te che avanzi, no io ma non me l'hai scattato non avanzo, ma non ci si fa che l'ingresso, mi hai mangiato pure, ma hai ragione, ma non è come sembra, non mi sono fatto da male, la serie ti vedo sembra più negra, andate su, anderti e non Lasciarti andare, andare lì, ma funziona ancora, hai visto, ma funziona, perché ho computer, volete vedere come è tra iardo, no, non ce ne freddo, no, potete vedere come io prendi il cazzo da dietro, ecco, Oh sai che al cielo, non ci trova Ma mi stavo facendo le secche nel bagno, siete voi che mi avete chiamato Eh ma rispettabili mi dovevo mettere i bambi No Mi ho caduto il pannolino I figotti della mamma del manu disponibili da lunedì alla domenica Non ce nando la tua, non tu policeman è curato No mi 다양 Cockrochi A 135 600 66 5 5 sono molti di suonire giuseppe tengici in dei video ma ti dacciai loro perché non so che nemmor non so che nemmor allora ai giuseppe immaginatamente iscrivetevi ai loro canali li trovate in descrizione nella schermata finale e tutto perché io li voglio bene tu cazzo i canali che? che ti eviti io faccio i video su polma vi lascio in vi lascio in descrizione il mio F questa carne è troppo dura questa carne è troppo dura questa carne è troppo dura va buono va buono hai capito? va buono va buono va buono sembra pericinito faccioletti bumbers unici per questo tempo il vostro bambino ha fatto ancora la merda in giardino va buono va buono va buono e noi faccioletti bumbers no ma ti ho trovato va buono certo quello che ho detto non l'ho capito certo certo lo fa ma veramente quando mi sbanca il nuovo virus si si sconda tra i ragazzi di 12 anni comunque ragazzi io volevo pensare che faremo una collaborazione a breve faremo una collaborazione a breve faremo una collaborazione con Enfire ma che fai a breve a breve faremo una collaborazione con Enfire a breve oh no 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 super tantissimo il giapponese io fra io uso le tecniche guarda Pietro guarda Pietro guarda Pietro c'è nel 47mg e nel 2b90 a due madri no non devo no cazzo se fa il video no quello ha due padri vedendo tre mani tre mani due piedi una gamba due orecchie due orecchie due orecchie ma troppo bello a me piace una ragazza bellissima ha due orecchie e due mani un naso tengo una risa poi ha due occhi ha dei capelli vedendo cosa è speciale te ne boss e cammina su una sedia a rotelle mannaccio dietro se tu uccidi da dietro la prendere di notte da dietro come dietro allora come ti ho pensato che c'è il flinx è ritornato sei ritardato e ma già seppò via banana non è vero sono anch'io via zio annaccio pietra come vedo come vedo come vedo stu cazzina come vedo stu cazzina il flinx è troppo via è strano è strano e mi vuoi tagli noo noo pigli mo vai noo 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 è molto censurabile certo certo block non mi sparate schifate ma come è tan 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 è stato dietro hai ci fatto un pochi spi però perciò non te lo andò ma ma lui non mi hai fatto senza cappò cioè mi hai fatto una mano non mi hai fatto una mano non mi hai fatto una miroan e gli altri grazie per gli xp no una cosa e tutto che non mi sono a mirano troppo con i xp grazie ora andate a te e dove hai fatto fermo e sapete che ti stai muoù no 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 ma hai spammato con tutti i guadini ma hai spammato con tutti i guadini schifate alla mia notta marie mia notte ma mi sa c'è sto vero ci hai detto grazie a rosso ve le lascio nelle schermate finali in descrizione anche nelle schede perché le voglio un mondo di bene giustamente raga voi mi volete bene oh mio zio ci vediamo in un prossimo video uno che non si vede si 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 200 euro sul gioco di me e le spese ancora di più di me e continuo a spender a meno 1000 di più di più è di più e cosa ti voglio 300 euro esatto tavola avessi sonjink 4 bianco 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 ovesse sono attesa e cattavo guarda ma non si accattava si esatto fatto le stesse un vuoto vuoi farla vuoi farla sborrarla va bene bianco e cammino e cammino e cammino e cammino e chiamano quando vedremo di scusarlo con un altro processo ma quando la vedrai sono lì fa insieme con gli altri processi e cammino ma quando la vedrai con me nel suo letto con la mamma process e cammino poi c'è si tratta parte di quando non mi capi di tornare tuo padre con il latte process tu sarai tu non esiste vita di non è l'altra è un'altra cosa capito altro di quattro sì io vi tra giuseppe e andrea ma che tazzecchini sono ancora fra il torneo se ci si sa messo che andava dicendo ma ma cosa c'entro io non puoi fare ma stai giovane a roblox se volete venire non mi ne frego un fox ne vince qua io sguardo su roblox io quando vado su roblox vado sempre su brocchini e cerco cerco filo poi mio padre mi dice posso andare a cercare ogni volta vuoi farla ingriparla vuoi farla ingriparla vuoi farla ingriparla e come dire che io non è nero allora io sono da l'interno di s io ho mai c'erano da niente da la xbox serie non è che la mia qui sono dalla mia lui gioco io sono con la mia oh cazzo allora io gioco da lui Pietro gioco da Nintendo 64 Andrea gioca dallo schermo io gioco dal pc di Jacopo Andrea gioca dal pc di Jacopo Giuseppe gioca dallo schermo che stavo in telefono l'intraccio di Ebre ok no 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 Giuseppe gioca da telefono Giuseppe gioca da telefono ma mai volete mettere 4v4 perca dio cos'è il volume io non ce lo dici ah mi chiedi Andrea gioca da telefono Giuseppe gioca da telefono e poi non puro ma promosso l'idea eh 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 ma c'è spesso si ora è ma Andrea facciamo sto bene non ho portato aiutiamo si stanno scrivendo il coro di io no eh disegno di essere stato spesso da gruppo da maes e il 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 a buone bucce bravo l'ebola devi prendere no Pietro mannaggia il porcaccio del demonio dicendo tutte cose il gruppo privato se non posso se non posso mi chiamo leccato un po' il pepe ma io mi chiedo di non 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 ahahahahah ma a mamma quello smette la da casa ma dove cazzo ce l'ho tenevo messi e ne fai e che c'ho ma stai parlando con mamma ma stai parlando con mamma ma con me tu rispondi male a tua mamma da fai sei sord da fai sei sord da fai sei sord ma con me tu rispondi male a tua mamma da fai sei sord da fai sei sord da fai sei sord volantissima autostale zitta da signori oggi farei non attacca troppo se è fuori di quello che beve sembra la nostra oggi farei non attacca ma che è questa rile ooooh 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 che sono stai parlando ma che stai ridendo con me ma che stai ridendo con me ma di chi è che stai ridendo con me la mamma di Giseppe la zia di Giseppe la sorella di Giseppe la mamma di Giseppe la mamma di Giseppe come sapete oggi come cazzo sta faremo un attacco faremo un attacco molto particolare guarda Giuseppe te l'hai grandissima coscia la porta e l'hai ammolato tu ovvero Assunna Capuzzi sarebbe tua mamma no no mo ve lo vedrete plesso e che lo vedrà io si io vieni non ci vedevo così e non voglio veri gli succede quindi come fare più never get free manager store vorrei 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 no e ma io sono troppo never get free no 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 uno sapere mai alla prima volta letto grado ragazza non c'indulare. voglio andiamo a fare non faccio un box sono mezzo voglio capire il po posto di roma 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 madre le bambine poi all'improvviso quello la si mette a fare l'amore all'improvviso poi prendete banale di istruzione il video vi sia caduto lasciate il like iscrivete al canale attiate la campanellina direttamente da me attenzione perché non siamo soli e niente volevo ringraziare abbiamo fatto prendere bollino giallo saluto salutate immediatamente ciao alleluia